Dalla cittadella del Carnevale di Viareggio, un bentrovati a tutti voi e benvenuti a Effetto Carnevale. Andremo a scoprire un altro carro di prima categoria che sfilerà sui viali a mare di Viareggio a partire da domenica 1 febbraio. Si tratta del carro Tentazioni realizzato dal maestro Franco Malfatti. Un carro molto particolare, un Pinocchione, ma andiamolo a scoprire insieme. E facciamoci largo un po' in mezzo a questi drappi. Eccolo qua, Franco Malfatti. Come stai? Bene, bene, bene. Io mi ricordo di aver annunciato come speaker primo premio Rovine d'Italia a Franco Malfatti, qualche anno fa. Si, si parla del 2001. Eh sì, sono stato io che ho annunciato la tua vittoria. Bene. Allora, Tentazioni, raccontaci questo carro. Tentazioni nasce un po' da un po' la mia cospia, la mia passione per quello che è un po' le parole, cioè il contenuto delle parole. Rabbia, tentazioni, cioè ripercono un po' il mio modo di fare cari. Stavolta ho voluto fare questo appunto perché viviamo un momento in cui le tentazioni per me sono importanti. Cioè la tentazione di dire la verità non c'è, la tentazione di andare via, la tentazione di cambiare, la tentazione... tentazioni. Questo mondo che praticamente è nato sulle tentazioni. E come l'hai raffigurata queste tentazioni? Vediamo un grande burattino, così? Praticamente dopo Eva e Gesù e Sant'Antonio viene Pinocchio. Praticamente per me Pinocchio è l'emblema... Ti hai detto, trattine, che dice Jonathan che gli hai fatto un Pinocchio così grande? Sarà contento, sarà contento. Jonathan Francesconi è un costruttore storico del carnetale di Areggio che purtroppo ci ha lasciato ed è fissato con le marionette e con Pinocchio. Ma infatti mi garbava questo rapporto che c'era fra il legno, la carne, la tentazione, questo mondo che praticamente ci percorre intorno. Però noi senza tentazioni non possiamo vivere. Il nostro essere è legato ai tentazioni. Siamo nati con Eva, ci ha portato dall'immortalità all'essere mortali davanti a questo. E sicché ho voluto fare questa analisi divertente, tenebrosa, con le doppie facce come mi garbano a me un po' le cose. Sono qui? Sono praticamente loro, queste persone che ci... tentazione donna, per me la tentazione femminile perché è detto per via di Eva, sono loro che praticamente sgraffiano con le loro mani così pungenti la nostra vita. Vediamole le mani, incredibili queste mani, mettono un po' di inquietudine. Proprio l'inquietudine che praticamente noi abbiamo davanti alle tentazioni. Non possiamo trattenerci, le tentazioni sono più forti di noi e cadiamo e bisogna cadere nelle tentazioni perché sono quelli che ci faranno crescere. Ed è un'analisi per me divertente, scenografica. Facciamoci largo tra queste tentazioni, Franco, rappresentate proprio in maniera molto teatrale, devo dire. Sì, teatrale anche perché si presta un po' al tema. Andiamo sul carro, dai, dai, in anteprima, in anteprima montiamo sul carro di Franco Valfatti, tentazioni, un Pinocchio gigantesco, guardate, rende bene l'idea. Allora, il legno, il nero, insomma, un carro come dicevo molto teatrale. Sì, teatrale perché praticamente il Pinocchio è teatrale, ha provato Benigni a farlo nel cinema, non funziona e l'unico è il teatro. Pinocchio o lo leggi o lo vedi al teatro perché praticamente è una... O al Carnevale di Viareggio. O al Carnevale di Viareggio perché infatti è una scommessa che mi ha garbato provare perché per me questa figura, pur essendo magari semplice, però non è mai stata fatta. Non so se sai ma all'Expo 2015 i prodotti toscani saranno rappresentati da Pinocchio. Ma perché Pinocchio per me, dopo la Divina Commedia, rimane uno dei libri che più mi ha segnato nella mia esistenza. E qui dove siamo noi, su queste tavole, chi ci sarà? Chi è che calcherà questo palco? Come saranno vestiti i tuoi figuranti? Ci saranno proprio tutte le tentazioni, tutte le donne che saranno molto appariscenti nel loro come la tentazione appare. E dietro invece ci sarà una specie di diavolesco perché d'altronde il diavolo ci andava rappresentato perché è quello che praticamente ci sgraffia per portarci verso queste... Anche positive e negative non hanno importanza. La tentazione va provata in tutte le maniere. Ecco, manca la testa che verrà messa quando esce il carro immagino, no? Perché sono grandi questi hangar ma i carristi vogliono fare sempre opere più grandi. Per cui verrà messa fuori. Il naso di che dimensioni sarà? È un naso che si muove o rimane fisso? Non uscirebbe dal baraccone in questo momento. Però no, rimane normale, è una figura consona, quella che è il Pinocchio per non sciupare la tradizione che insomma il Pinocchio è una cosa seria per me. Ma ci saranno anche le fatine? Le fatine no, saranno proprio queste tentazioni, sono delle fatone un po' vero. Delle fatone, delle fatone. E qui queste maschere molto significative, austere insomma. Abbastanza teatrali perché rappresentano questo momento un po' onirico che lui vive. Perché la tentazione la vive chi la prova. È come se noi vedessimo quello che succede nel momento in cui te davanti, che ne so, a una torta, a un gelato, provi, che sensazioni provi. È logico che questa è una visione fantastica di quello che per me succede quando questi demoni intorno a noi ci portano a avere queste tentazioni. Ecco, quindi speriamo che i nuovi politici resistano a certi tipi di tentazione a cui vengono sollecitati sempre, ma ogni tanto c'è una retata. Quella della bugia, quella del rubare, sono tentazioni sempre forti nella politica purtroppo. Ecco, quindi speriamo di cedere alle tentazioni quelle più da peccato veniale, una torta, una cena, e a quelle si può cedere. Altre tentazioni bisogna scacciarle, bisogna scacciarle, anche se non è facile. No, non è facile anche perché praticamente rappresentano la lettura del nostro tempo. Purtroppo, ho fatto il caro, ripercorre anche quello. Le tentazioni di ora, una volta magari la tentazione era di andare a scoprire una nuova terra, di andare a arrivare sulla luna. Ora invece la tentazione è rubare i soldi pubblici, dirti che magari la crisi sta per finire, invece non è vero. Queste sono le tentazioni che più mi hanno disturbato, perché magari la tentazione di dire a un bimbo che esiste Babbo Natale è una cosa bellissima. Non è una bugia, lo fai sognare. Invece ora qui ci stanno invece facendo un po' soffrire. E' un po' diverso. Bene, per finire, le musiche, perché ogni caro ha le sue musiche, che tipo di musiche userai? Userai molto musica teatrale, praticamente si va da una classica a passare un po' per quello che è anche un omaggio al film famoso di Manfredi, che fece con il vero Pinocchio che ci ha un po' colpiti tutti, ad andare un po' al moderno, perché il caro si presta essendo molto musicale, perché c'è una ritima quasi impennotica che va bene in qualsiasi tipo di musica. Ecco, poi dobbiamo dire che in qualche modo Pinocchio è legato anche a Viareggio, perché nel cinema Mario Monicelli, insieme all'avvocato Guardone, girò in maniera amatoriale tantissimi anni fa, un film su Pinocchio. E poi un Pinocchio famoso era un ragazzo viareggino, che ora ormai no? Sì, però insomma c'era già Gasma a partecipare a questo film, sicché l'ho visto, infatti ho seguito un po', bisogna un po' informarsi prima di fare certe cose. E Viareggio si devo dire è legato molto a Pinocchio, perché praticamente proprio lo sentivano già, anche il Baroni fece una storia di Pinocchio, un hangar che era molto legato a questa figura e l'ho voluto un po' rappresentare un po' la mia maniera. Bene, allora, Franco Malfatti, carro di prima categoria, tentazioni, in bocca al lupo, ci vediamo al corso. Il primo febbraio, l'otto febbraio, il quindici, il ventidue e il ventotto. Buon carmelo. Ciao, grazie, complimenti.